Musica Musica Io devo innanzitutto permettetemi di fare un ringraziamento assolutamente dovuto alla Fondazione Unicredit e alla famiglia Giannesini per questa opportunità che ci dà perché come ricordavo nell'introduzione stiamo parlando di 35.000 euro a persona che sono una cifra cospicua per poter fare un progetto di ricerca assolutamente di valore all'estero io non ho avuto questa fortuna quando ero un po' più giovane e ne ho tratto lo stesso dei benefici per cui immagino che effettivamente le nostre candidate possano veramente utilizzarli per quello che ci hanno mostrato adesso Io sono molto contento dei progetti che sono stati presentati perché sono due progetti che riguardano prevalentemente la medicina preventiva che vuol dire poter lavorare dandoci un margine di confidenza sia in termini clinici sia in termini economici perché prevenire le malattie vuol dire evitare danni al paziente e vuol dire evitare danni anche al Servizio Sanitario Nazionale che sappiamo in questo periodo è particolarmente sotto pressione per cui grazie ancora a Unicredit, grazie ancora alla Fondazione Giannesini per il supporto che ci dà e tanti auguri alle nostre candidate sperando che ci portino a casa qualche buon risultato Andrò a Liverpool, all'Università di Liverpool a collaborare insieme al professor Malcolm Jackson che ha una grandissima esperienza nelle problematiche neuromuscolari ha tantissimi strumenti per studiare in questo caso le fibre muscolari il mio progetto è sulla fragilità fisica e soprattutto quindi negli anziani e andremo a vedere come l'allenamento di forza massima può andare a migliorare tutte le qualità del muscolo e anche le qualità proprio generali con l'allenamento in questo caso di forza massima per lo studio andremo a vedere i pazienti fragili che possono essere fragili fisici o fragili cognitivi e andremo a confrontarli con pazienti anziani quindi vedremo di mecciare per l'età e però appunto sani senza problematiche l'allenamento di forza massima piano piano sta incominciando a avere sempre più studi però non è mai stato fatto su persone fragili con fragilità cognitiva soprattutto attualmente il gruppo di ricerca nostro di Verona sta facendo uno studio sui malati di Alzheimer però appunto la finestra prima in cui le persone sono fragili e possono effettivamente tornare a essere sane non è ancora stata studiata quindi ci aspettiamo che con questo allenamento effettivamente le persone che stanno iniziando ad avere un decadimento possano ritornare a avere un fenotipo più sano Stiamo cercando di investigare le basi patogenetiche dell'insulino resistenza nei soggetti in età pediatrica affetti da obesità e abbiamo già ottenuto dei risultati preliminari importanti analizzando dei dati epigenomici e genomici sui nostri pazienti le fasi successive del progetto verranno in collaborazione con il laboratorio della professoressa Ling dell'Università di Lund che è proprio un laboratorio che si occupa di epigenetica del diabete e grazie a questa collaborazione potremo proseguire il progetto ampliando le analisi e confermandole anche non solo sul sangue di soggetti ma anche in alcuni tessuti che sono particolarmente importanti per il metabolismo dell'insulina nei pazienti pediatrici affetti da obesità grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti